Una settimana al via ufficiale delle Olimpiadi 2024 a Parigi. Già ai massimi livelli, le misure di sicurezza nella capitale e in tutta la Francia cominciano a arrivare le prime delegazioni degli oltre 10.000 atleti che dal 26 luglio all'11 agosto parteciperanno ai giochi, mentre quelli paralimpici andranno in scena dal 28 agosto all'8 settembre. La fiaccola olimpica è già arrivata in terra transalpina, colta da ali festanti di folla, ma la drammatica situazione internazionale ha fatto elevare ai massimi livelli l'apparato di sicurezza antiterrorismo, con migliaia di agenti delle forze dell'ordine e soldati presenti ovunque a Parigi e un vero e proprio campo militare allestito alla porte della capitale. L'Italia arriva a questa edizione olimpica con la rappresentanza più nutrita di sempre, forte di 403 atleti e oggi dall'aeroporto di Fiumicino parte la prima pattuglia azzurra, quella del tiro a volo con la squadra di skid. Dopo la messa di medaglie, il primato continentale e i recenti europei d'atletica, tutti i tifosi italiani sperano di godersi altri trionfi azzurri alle Olimpiadi Parigine.